Il suono in tedesco significa ardito come un orso. Sanberardo fu abate, dottore della chiesa e patrono degli apicoltori. Terzo di Sette Fratelli, nacque nel 1090 da Tescelino e Sauro, vassallo di Odone e di Borgogna, e da Aletta, figlia di Bernardo di Monbar, anche egli vassallo del Duca di Borgogna. Studiò solo grammatica e retorica presso la scuola dei canonici di Notre Dame di Saint Vorles, a Ciatillon-sur-Seine, dove la famiglia possedeva dei terreni. Tornato nel castello paterno di Fontaines nel 1111, si ritirò nella casa di Ciatillon con cinque fratelli e altri parenti e amici per condurre una vita di ritiro e preghiera. L'anno successivo, insieme a una trentina di compagni, si fece monaco nel monastero cistercense di Citeaux, fondato 15 anni prima da Roberto di Molesme e seretto da Stefano Harding. Nel 1115, insieme a dodici compagni, tra cui quattro fratelli, un unzio e un cugino, si trasferì nella proprietà di un parente nella regione della Champagne, dove fondarono il monastero cistercense di Chiaravalle. Berardo percorse l'Europa per ristabilire la pace e l'unità e illuminò la Chiesa con i suoi scritti e le sue esortazioni. Era riservato e quasi timido, ma aveva un carattere deciso. Papa e Chiesa erano le sue stelle fisse, ma spesso entrava in contrasto con molti ecclesiastici. Era severo anche con i monaci di Cluni, ritenendoli troppo mondani con Chiese troppo adornate, mentre il povero soffriva la fame. Ai suoi cistercensi chiedeva meno funzioni, meno letture e più lavoro. Invio i suoi monaci apostolici con la zappa in mano per mettere ordine tra le terre incolte e l'acqua non domata dell'Europa, cambiando la storia con fatica e preghiera. Berardo era spesso chiamato a svolgere missioni di vertice come capo. Bernardo possiede un carattere gentile e caritatevole, ma sa essere deciso nel combattere le ingiustizie e il lusso in cui vive una parte del clero. Se necessario, egli rimprovera, critica ed esorta senza fare distinzioni tra il popolo e i ricchi potenti. Bernardo fonda numerosi monasteri in Francia, Inghilterra, Irlanda e in altre parti d'Europa, viaggiando incessantemente. Inoltre, Bernardo è un fervente scrittore, componendo poesie rivolte soprattutto alla Madonna, scrivendo prediche sulla superbia e umiltà e altre opere letterarie per toccare il cuore delle persone con le sue parole. Secondo alcuni racconti, Bernardo predica così bene che quando arriva in una città le donne chiudono a chiave i mariti in casa per paura che lo seguano e lo lasciano la famiglia. Per questo motivo, Bernardo viene chiamato dottore dolce come il mie. Re, nobili e vescovi si rivolgono a lui per risolvere varie controversie grazie al suo sostegno Papa Innocenzo. Secondo viene riconosciuto come legittimo pontefice contro la doppia elezione di Anacleto II. Durante la sua vita, Bernardo compie vari miracoli, alcuni dei quali sono diventati leggendari. Un giorno si rompe la ruota del carro su cui sta viaggiando ed egli costringe un diavolo dispettoso ad aggiustarla. Proclamato dottore della Chiesa, è patrono della Borgogna, della Liguria e di Gibilterra. Protegge apicoltori, agricoltori e vignaioli e, per la sua eloquenza, i predicatori. Viene invocato contro le malattie in genere e per allontanare il brutto tempo. Bernardo giunge in una città affollata e caotica, ma una volta tornato al monastero si mostra obbediente alla regola come tutti gli altri monaci, prega, digiuna e lavora intensamente. Possediamo 331 dei suoi sermoni, oltre a 534 lettere e i suoi famosi trattati su argomenti come la grazia e il libero arbitrio, il battesimo e i doveri dei vescovi. I suoi scritti manifestano affetto verso Maria, madre di Gesù, che egli considera mediatrice di grazie, pur non riconoscendo la dottrina dell'Immacolata Concezione. Questo eremita, tuttavia, non sempre riesce a comprendere e accettare coloro che seguono altre vie di fede. Bernardo critica aspramente la dottrina trinitaria di Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers. Inoltre, condanna l'insegnamento di Pietro Abelardo professore di teologia e logica a Parig, che anticipa le idee di Tommaso d'Aquino e Bonaventura. Nel 1145, il suo discepolo Bernardo dei Paganelli Eugenio III diventa Papa, e lui gli invia un trattato adatto per ogni pontefice, ma personalizzato per lui, invitandolo a non illudersi sulle persone che lo circondano. Puoi indicarmi qualcuno che abbia salutato la tua elezione senza aver ricevuto denaro o senza la speranza di riceverne. E quanto più si sono professati i tuoi servitori, tanto più vogliono dominare punto successivamente. Eugenio III lo chiama a predicare la crociata la seconda per difendere il regno cristiano di Gerusalemme. Tuttavia, l'impresa fallirà di fronte a Damasco. Il 20 agosto 1153 muore a causa di un tumore allo stomaco. Viene sepolto nella chiesa del monastero, ma durante la rivoluzione francese le sue spoglie vengono disperse, tranne la testa che è ora conservata nella cattedrale di Troyes. Nel 1174 Alessandro III lo proclama santo, mentre nel 1830 Pio VIII gli conferisce il titolo di Dottore della Chiesa.